Oggi a Fiano abbiamo aperto ufficialmente i festeggiamenti del Natale, è in fase di svolgimento il mercatio natalizio, la nostra piazza è gremita da tante persone e come amministrazione siamo molto soddisfatti. Perché? Perché abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati al massimo per rendere ancora più piacevoli le festività natalizie a Fiano. Abbiamo voluto fare in modo che il Natale, con tutti i messaggi belli che questo porta con sé, si senta, si percepisca e si respiri. Il nostro paese per l'occasione, ma non solo, per tutto il periodo delle feste natalizie si è vestito a festa. Questo è stato possibile grazie all'encomiabile lavoro realizzato da parte delle nostre borgate, da parte della nostra Proloco e dai tantissimi cittadini e volontari che si sono impegnati e prodigati per rendere ancora più magica e suggestiva l'atmosfera natalizia a Fiano. Il mio augurio più grande che voglio rivolgere ad ognuno di voi e che questo periodo di feste possa essere per ciascuno di voi occasione di socializzazione e di incontro, circostanza di riflessione e positività. Vi auguro tanta felicità di quella effettiva, di quella solidale, che parli soprattutto i vostri cuori. Fermate la corsa inutile di questi giorni, passate queste festività con i vostri cari in pace e nella serenità delle relazioni familiari, all'interno delle quali la riunione degli individui non è somma ma è sintesi. Vi sono infatti i nonni, i genitori, i figli che rappresentano il passato, il presente e il futuro. Vi insomma il disegno della famiglia come sintesi di serenità e di auguri. Godetevi quindi la famiglia e i valori in essa contenuti perché nessun regalo, neanche se prezioso, può rendervi veramente felici. Auguri quindi per un buon Natale e un sereno anno nuovo. Ne abbiamo tutti un gran bisogno. Buon anno Fiano. Organizzare un evento simile, credetemi, non è assolutamente facile. Alle spalle c'è un grande lavoro, una grande mole di lavoro e quest'anno devo dire che visto il risultato, il risultato lo dimostra la nutrita presenza di cittadini, visitatori che arrivano anche da altri paesi, è quello che ci appaga di più in termini di soddisfazione. Sono qua con le due protagoniste dell'organizzazione di questo mercatino di Natale, la mia consigliera con l'incarico al commercio e manifestazioni Giasmina Ferroglia e con Alessandra Grubic, la presidente della Proloco. Gias, un bilancio di questo mercatino? Un successo, direi un successo. Per me il successo più grande è quando gli espositori che arrivano veramente da lontano, non solo dietro l'ango ma anche da lontano, abbiamo espositori di Cuneo, di Asti, di Alessandra, della Val di Susa, vendono e quindi questo è il successo più grande perché se loro vendono e hanno un buon rientro probabilmente il prossimo anno saranno di nuovo dei nostri. Tra parentesi, questa è la terza edizione, è sempre andata crescendo e quindi io sono contenta e soddisfatta. Il prossimo anno bisognerà dare di più e sto già pensando, cosa potremmo fare di più? Ok, abbiamo l'ideona. Alessandra, un tuo bilancio? Bilancio positivo al massimo. Il banchetto della Proloco è sommerso di gente, dà un paio d'ore, un sacco di prelibatezze, tutti ci fanno i complimenti per queste ottime frittelle di mela che una famiglia di Fiano ha deciso di venire a fare, ci sono i mitici curti anche questa volta che ci supportano con le fianelle, vin brule a volontà, il tè non è andato molto devo dire, il vin brule è molto più apprezzato e niente, devo dire che c'è un sacco di gente. Io anche prima ho fatto un giro per i banchetti qua e gli espositori sono tutti contenti, mi hanno detto complimenti, è un bellissimo mercatino. Bello, il prossimo anno ci lavoreremo. Io anche ho incontrato un borghigiano e mi ha detto fermati, dobbiamo pensare al prossimo anno. La donna, che è. Mi ha detto sì, sì, bisogna partire in tempo, quindi dovremmo lavorare di nuovo, partire subito per organizzare quello del 2019. Sì, una considerazione che ci tenevo a fare è che altro motivo di orgoglio e soddisfazione e che questo evento è frutto anche della numerosa partecipazione di tanti cittadini, di tanti volontari, di tante associazioni. Questa nuova fase amministrativa, secondo me, ha risvegliato le coscienze di tantissimi fianesi che si sono associati con noi nell'organizzazione, nell'allestimento di questo evento. E questo ci rende molto soddisfatti, vero? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente soddisfatti, anche perché il coinvolgimento dei cittadini di Fiano è andato a parare anche sugli allestimenti di tutti i borghi. Noi abbiamo l'intero paese che si è dedicato ad allestire, ad arredare, ad abbellire il proprio borgo. Basta dire che noi, in questa terza edizione, ma sono due anni, che mettiamo a disposizione un trenino che porta gli ospiti che vengono a visitare Fiano, a visitare Mercatino, li portiamo a vedere quello che accade negli altri borghi, senza considerare che, ad esempio, Borghe Grange oggi sta ubriacando, credo, tutti. Sì, assolutamente tutti, arrivano tutti molto allegri perché alla Cappella di Sant'Antonio viene offerto un ottimo vin brulee e quant'altro. Quindi io direi che vogliamo di più. Ah, tra parentesi, davano neve oggi. Io vorrei parlare con quelli che fanno il meteo perché qui di neve non ce n'è stata, ma atmosfera ne abbiamo finché ne vogliamo. Per allietare questa giornata di festa, oggi è presente qui con noi anche il nostro Babbo Natale, che tra l'altro è un carissimo cittadino fianese che ogni anno si presta per rendere magica questa atmosfera natalizia. Babbo Natale, vuoi dirci qualcosa? Io sono veramente orgoglioso di poter partecipare a questa manifestazione. Io con tutto il cuore auguro a tutti i bambini un'immensa felicità di realizzare i loro sogni e di portare a casa, nelle loro case, ai genitori questo sogno. Sono felicissimo di essere il rappresentante di questo momento. Grazie a tutta l'amministrazione. Buon Natale! Buon Natale!